Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi. Apriamo con il nuoto. La due giorni natatoria organizzata dal centro M2 di Campo di Pietra prende il via fra poco alle ore 15. Anche quest'anno per il quarto Memorial Don Guglielmo tantissime le adesioni. Il riscaldamento è in corso al centro M2 di Campo di Pietra. I 500 atleti provenienti da Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania e naturalmente Molise alle 15 scenderanno in vasca per dare il via al quarto Memorial Don Guglielmo. Il meeting nazionale di nuoto riservato alle categorie esordienti A, ragazzi, juniores, assoluti, femminile e maschile inizierà oggi ma proseguirà anche domani. Le gare previste nel pomeriggio sono i 50 stile libero, 400 misti, 50 dorso, 400 stile libero, 100 rana e australiana stile libero. Domani lo start alla manifestazione è previsto alle 9. In ordine le gare sono 200 stile libero, 50 rana, 100 dorso e farfalla e 200 rana. Dopo la pausa pranzo le gare riprenderanno alle 15.30 con i 200 misti, a seguire 200 farfalla, poi i 250 dorso, ancora 50 farfalla, 100 stile libero ed in chiusura l'attesa staffetta 4x50 stile libero. Il presidente del centro M2 di Campo di Pietra, Amelia Mascioli, ed il suo staff anche quest'anno hanno organizzato una manifestazione prestigiosa tra le migliori del centro-sud. Una kermesse sportiva per promuovere il territorio e far muovere l'economia. Come detto, 500 gli attreti, ma tra famiglie e distruttori, più di 2.000 le unità giunte in Molise. Martedì prossimo alle 15.00 il presidente del CONI, Giovanni Malagò, insieme al segretario generale Roberto Fabbricini, visiterà la sede del comitato regionale CONI-Molise a Campovasso. Adesso il calcio con il campionato di Serie D. Vediamo le partite in programma nel Girone F. Il pareggio della scorsa settimana contro la Renato Curi angolana ha frenato il ruolino di marcia del Termoli che veniva da cinque vittorie consecutive. Contro gli abruzzesi non si è andato oltre il 2-2, un punto che fa andare giallorossi a 24 in classifica, sempre secondi e sempre dietro all'Ancona che ora dista tre lunghezze dopo la vittoria contro il Sulmona. Rammarico in casa adriatica che sperava nel bottino pieno per tentare il sorpasso in graduatoria. Resta comunque il trend di risultati utili consecutivi per Giacomarro e Di Suo che domani dovranno vedersela con la dura trasferta contro la Vispesaro. I marchigiani sono a metà classifica con 19 punti e sicuramente alla portata dei giallorossi che comunque non dovranno commettere l'errore di sottovalutare gli avversari come è accaduto al Cannarsa domenica scorsa. Non solo per il doppio vantaggio vanificato ma anche per quello accaduto prima e dopo il triplice fischio con la mega zuffa tra le due formazioni che ha portato a tempo scaduto l'espulsione di Mandorino che dovrà scontare la maxi squalifica di otto giornate più una in quanto già in diffida. Nelle marche Giacomarro dovrà fare a meno anche Di Falco sempre per squalifica. Rientrano invece Fusaro e La Rosa. La probabile formazione vede quindi Patania tra i pali in difesa Calabrese, Iboggio e Fusaro. Al centrocampo Viteritti, Troiano, La Rosa, Di Mercurio e D'Alessio coppia d'attacco Genchimiani. A dirigere Vispesaro Termoli il signor Ivan Robilotta di Sala Consilina. Fuori dalle mura amiche anche Lisernia che sarà di scena sul campo della Iesina. Quando tutto sembra andare per il verso giusto a Lisernia Football Club dal punto di vista societario e della squadra ecco che è la Lega a dare una nuova tegola alla società Pentra. Infatti l'ex difensore bianco-celeste Calabrese alla fine della passata stagione aveva presentato istanza alla Lega per circa 7.000 euro di rimborsi non percepiti e la stessa Lega adesso ha imposto alla società molisana di pagare 4.300 euro al giocatore ora nelle fila del Termoli. Passando al campo quello che ha guadagnato Domenica è un punto che muove la classifica anche se di poco ma che fa molto morale in vista del prossimo impegno di campionato. L'impegno non è dei più facili viste le assenze importanti come quelle di Panico e Noto per squalifica e perché la partita è in trasferta su un campo difficile come quello di Iesi contro una Iesina che in casa nei precedenti sei match ha perso solo contro la capolista Ancona e sicuramente non vorrà cedere punti ad una squadra nei bassi fondi della classifica. Solo nella rifinitura di oggi Ministero Scagliarini dovrebbe sciogliere le riserve sugli 11 da schierare domani ma dalle indiscrezioni dell'allenamento di ieri sera si va verso un 4-5-1 conservativo con il solo Ricciardi in attacco e Panico che sarà sostituito da un centrocampista per provare a giocare di contropiede con delle incursioni proprio dal centrocampo. Intanto il capitano Pentro per riprendere la miglior condizione atletica e il ritmo partita oggi si aggrega alla squadra Juniores. E quindi gli 11 che dovrebbero essere schierati come detto con il 4-5-1 sono Navarra tra i pali, difesa con Corbo, Maresca, Panariello e Pepe i 5 di centrocampo saranno Fontana, Feliciello, Spasiano, Ballarano e Colasante con un link a punta che sarà appunto Ricciardi. Per il match di domani al Pacifico Carotti di Iesi con inizio alle ore 14.30 è stato designato il fischietto modenese Alessio Saccenti che sarà coadiuvato da Gabriella Angelozzi ed Andrea Micaroni. Al Civitelle di Agnone torna in panchina Mister Urbano che guiderà i suoi ragazzi contro il Celano. Per la tredicesima giornata del gruppo F l'Olimpia agnonese riceve al Civitelle il Celano. Gli uomini di Urbano, che ha scondato le tre giornate di squalifica che domani guiderà i suoi dal campo, vengono dalla bruciante sconfitta di Fano. Ma i segnali positivi lanciati negli ultimi 20 minuti dove si è sfiorato più volte il gol del pareggio devono dar fiducia a tutto l'ambiente. Le prossime due tappe, Celano in casa e Derby a Termoli, ci diranno tanto sulla stagione degli Alto Molisani in attesa del mercato di riparazione che vedrà l'Olimpia protagonista e il DS Sabelli attivo sia sul fronte attaccanti sia sugli Under. Mister Urbano vuole a tutti i costi una vittoria per muovere la classifica ma di più per il morale dei suoi. L'amichevole infrasettimanale ha visto un agnonese in palla. Stanno tutti bene, il solo Famiano è ancora in dubbio ma dovrebbe partire dalla panchina per poi dare il suo contributo nel secondo tempo. L'undici titolare dovrebbe essere Biasella tra i pali, Rifano, Litterio e De Paolo e Santonelli in difesa, centrocampo con Ricamato, uno dei migliori a Fano, con Partipilo, Mancini e Wade, in avanti Morantia e Keita, chiamati a dare di più e a essere più cattivi sotto porta per fare quei gol che mai come ora servono. Il dodicesimo uomo in campo sarà come sempre il pubblico del Civitelle, chiamato a stare ancora più vicino in questo momento difficile ai loro beniamini per uscire da questa situazione e riportare l'agnonese dove le compete. Passiamo al Celano. I bianconzori allenati da Luigi Morgante sono a quota 16 punti in classifica, giusto il doppio di quelli conquistati da Orlando e Soci. Vengono dalla bella vittoria per 2-0 conquistata sette giorni fa contro la Civita Novese e giocano con un offensivo 4-3-3 dove i punti di forza sono gli attaccanti Edison Dema e Roberto Aquaro, ex di turno, dove al Civitelle ha lasciato un bellissimo ricordo collezionando 76 presenze condite da ben 34 reti. Partita quindi non semplice per Keita e compagni, ma ormai muovere la classifica è diventato un obbligo. L'appuntamento è fissato alle 14.30 di domani. A dirigere l'Olimpia agnonese Celano è stato disegnato il signor Francesco Luciani di Roma 1, coadiuato dai assistenti di linea Carlo Robusto di Foggia e Alessio Rega di Bari. Questione Boiano ancora da definire. Domani arriva il Fano, Matesini in campo con la Juniores o verso la seconda rinuncia. Si era annunciato un ciclone in casa Boiano che avrebbe rivoluzionato con aria di positività la situazione ormai da settimane piatta e sconfortante. Anche per questa tredicesima giornata il presidente di Conza sembra non sia riuscito a portare concretamente cambiamenti in casa Boiano. Durante questi giorni un di Conza non più solo, visto il suo nuovo braccio destro, Nicola Annunziata. Insieme avevano garantito che per il match di domani contro il Fano ci si poteva aspettare una signora squadra dai colori bianco-rossi. Si era parlato di novità certe in campo dovute all'arrivo di nuovi giocatori. New entry che però, a 24 ore dal prossimo incontro, ancora non definite e soprattutto ufficiali. Nulla di concreto, sicuramente forti aspirazioni nella dirigenza che ambisce a raggiungere dei risultati. Il problema è di fondo, visto che le teorie e le parole non riescono a diventare pratica. Un altro polverone di fumo che lascia per l'ennesima volta un po' di amaro in bocca. Quasi sicuramente a capitanare questa squadra virtuale è ancora il mister Lamenna. Una squadra platonica dalla formazione ovviamente incerta che si spera perlomeno scenda in campo. I marchigiani saranno presenti con certezza al Colalillo. Le perplessità sono tutte esclusivamente per i matesini, in quanto non sappiamo se a rappresentare i colori del Boiano ci sarà la Juniors, se sarà una rosa mista o se addirittura non si presenterà nessuno, come è accaduto in precedenza. Anche per domani siamo pronti, oramai ci aspettiamo di tutto. L'appuntamento della partita a Boiano-Fano avrà il fischio d'inizio alle ore 14.30 e ad arbitrare il signor Panarese di Lecco. Torbal inizia oggi il campionato di Serie A per i Guerrieri della Luce. Alle 15 squadre in campo al Pala Ferentinum, il campionato proseguirà anche domani a partire dalle 9. Basket in campo le squadre molisane dalla divisione nazionale B alla C regionale. Dopo la sconfitta a Beffa ottenuta sul parquet di Maddaloni, che continua a rivelarsi sempre più stregato, il basket Venafro è atteso dalla seconda trasferta consecutiva, imposta da calendario. La formazione allenata da Arturo Mascio andrà in quel di Bisceglie, dove troverà una squadra che veleggia nelle posizioni medie della gradatoria e che nell'ultimo turno ha sbancato il parquet di Monteroni. Chiaramente si tratta di una partita non semplice per Petrazzoli e compagni, che hanno chiaramente tutta la voglia di riscattarsi. Ormai dopo un iniziale periodo di apprendistato, l'impatto con la Serie B è stato superato ampiamente. Ora bisognerà rimettersi da subito in marcia per puntare ad un torneo tranquillo, dove la salvezza è l'obiettivo principale dichiarato della società benafrana. In divisione nazionale C ha fatto male la sconfitta interna subita dall'Isernia con il Campli. In una partita vissuta sul filo della tensione e dell'equilibrio è arrivata una bomba di montori a sancire la vittoria degli abruzzesi, che hanno trovato due punti di platino sul proprio cammino. Per i pentri ora è subito tempo di riscatto, anche se non sarà facile andare a fare punti sul campo del Magic Team Benevento. I sanniti sono secondi in classifica con 10 punti, anche se sono reduci dalla caduta di Pozzuoli, che ha fatto perdere loro la vetta. In questo contesto appare chiaro che entrambi i quintetti hanno voglia di riscatto, con gli sernini che hanno già dimostrato in questo scorcio di stagione di compiere grandi imprese. Quindi Benevento è avvisata, contro Cardinale e compagni, ma distrarsi, altrimenti sono guai sei. In Serie C dopo il turno infrasettimanale si ritorna immediatamente in campo. Una partita da tenere sotto osservazione è quella che vede Ripalimosani affrontare in casa il giovane rampante Chiedi. Non sarà un match semplice per la squadra allenata da Cannavina, che in questa parte di stagione ha alternato i risultati buoni ad altri delutenti. Chiude infine il quadro la trasferta dell'NBC sul parche di Pescara. I campobassani, nonostante gli innesti di Filipponio e Murtas, ancora non trovano il primo successo della stagione. Sul parche pescarese il destino appare ancora una volta segnato, anche se mai come ora questa squadra sta dando grandi segnali di risveglio, che potranno significare molto nel proseguo del campionato. Inizia oggi la nona giornata per la C regionale. Palla 2 alle 17 per Roseto Termoli. Alle 18 il campo basket ospita al Palavazieri il San Salvo. Calcio d'eccellenza, dodicesima d'andata. Vediamo le partite. Campobasso-Montenero, Cliternina-Roccaravindola, Gambatesa-Alife, Montaquila-Vairano, Fornelli-Roseto, Vasto-Girardi-Santeliana, Venafro-Gioventù-Dauna, Pozzilli-Sesto Campano. Sono già in campo, mentre vi parliamo al Marchese del Prete, il Venafro e la Gioventù-Dauna, e il Pozzilli che sta ospitando il Sesto Campano. Mentre il fischio d'inizio a Roccaravindola tra Montaquila e Comprensorio-Vairano è previsto alle 15.30. Il quadro si chiude domani con Campobasso e Fornelli, entrambe con il favore del campo. Tutto pronto per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza. Ben cinque le gare in programma per domani. Il Campobasso ospiterà un quanto mai acciaccato Montenero, che dal basso della classifica non sembra però avere timore degli undici di farina. Mister Lallopizzi ha allenato i suoi giovani in maniera certosina e chissà che proprio nella Tana del Lupo non possa garantire un bel colpo di scena allo spettacolo del calcio. Dall'altro lato il Campobasso non ha intenzione alcuna di fermare la sua corsa, proseguendo in questo modo un percorso quanto mai lusinghiero per il gruppo che fin qui, in ogni partita, ha sempre fatto bene, non mancando mai il bersaglio. 33 i punti che vedono per ora il rosso-blu sul podio più alto del massimo torneo regionale. Questa mattina solita rifinitura per il rosso-blu, che a breve, tra 15 giorni, dunque nella prossima gara casalinga, vedrà riaperti i cancelli dello stadio di Selvapiana. I lavori veri e propri per la messa in sicurezza dell'impianto inizieranno a maggio, mentre già ad adesso sarà assicurata la manutenzione del manto erboso che vedrà nuovamente il Lupo calpestare il verde del suo stadio. Che questo sia di buon auspicio per il futuro del calcio nel capologo di regione. Altra squadra di eccellenza partita col piede giusto e che a poco a poco sembra aver perso la retta via, il Fornelli che al comunale ospiterà il Roseto. Senza dubbio sarà una gara carica di agonismo e bel gioco perché è noto da ambo i lati quanto impegno e dedizione mettano società e calciatori per tentare di disputare un buon campionato, non arrendendosi agli ostacoli che trovano sul cammino. Ogni partita è una gara a sé, in paleo c'è la vittoria di una guerra composta da tante battaglie da qui alla fine. Gli alto molisani partiti alle Calcagne del Lupo hanno via via perso qualche gradino, ma De Bellis e Company vorranno riprendere la corsa necessaria per riaffacciarsi dai piani alti della classifica. Ma restiamo in alto molise, questa volta spostiamoci al Ditella dove andrà in scena una partita molto delicata che andrà a delineare uno scenario forse più nitido sia per il vasto Girardi sia per la Sant'Eliana, vera sorpresa di questo campionato. Mister Palazzo ha dato la carica ai suoi in questa settimana mentre bacchettate nei confronti dei giocatori sono giunte dalla dirigenza giallo celeste, già pronta a guardarsi intorno in termini di calcio mercato poiché fin qui il vasto Girardi non ha dato consistenti prove per dimostrare di essere una squadra solida e compatta nonostante l'esperienza di alcuni giocatori che ogni domenica fanno la differenza sul rettangolo di gioco. Una sola lunghezza tra i due team che domani lotteranno tenacemente per smuovere le fila della classifica. Il Gambatesa, tornato a vincere fuori casa al De Santis contro il Montenero, domani affronterà la Liffe squadra quota 19 punti che reduce da un pareggio contro il Fornelli e da una sconfitta contro il Pozzilli, domani tenterà in ogni modo di ripristinare l'ordine. Toccherà a Mister Totalo bloccare il risveglio calcistico dei campani. Al Santa Cristina la Cliternina invece incontrerà il Roccaravindola, un match decisamente delicato vista la posizione in classifica per entrambe le squadre. I basso molisani a quota 10 punti dovranno rifarsi della sconfitta contro la seconda in classifica, la gioventù calcio Dauna. Mentre il Roccaravindola, che una settimana fa ha perso contro il Montaquila, squadra alto molisana che sta poco a poco risalendo la china, dovrà necessariamente lottare fino in fondo per ricominciare il cammino che possa poi condurre a una salvezza diretta. Tanto ancora c'è da giocare nel massimo torneo regionale per realizzare un sogno o per sfatare ogni incertezza. Diamo dunque al tempo il tempo necessario per avere le risposte. Campionato di promozione, dodicesima d'andata, vediamo le partite. Campo di Pietraspinete, Casalnuovo, Molise, Castel Mauro, Riccia, Civitanova, Torremagliano, Toro, Matese, Cerce Maggiore, Acli, Real Termoli, Maronea, Rocca Sicura, Vinchiaturo. Sono due gli anticipi che si stanno già giocando. Il Toro, che è in campo contro lo Sporting, Matese, e il Real Termoli, che sta ospitando la Maronea. Il Cus Molise, ieri, ha ospitato il convegno bambini, attività motoria e sport. La manifestazione è stata organizzata dalla struttura dell'Ateneo in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria. Ne abbiamo parlato con Pina Calcagnile. Pina Calcagnile, responsabile di Special Olympics Italia, Molise, è dunque presente a questo convegno, ma con la finalità che riguarda più la tua branca. Sicuramente sì, è particolarmente importante il mio intervento per quanto riguarda gli effetti e benefici dell'attività motoria e sportiva per i bambini con disabilità, bambini e adolescenti, perché in questa occasione parleremo in particolare di bambini e adolescenti. Medici e tecnici sposano insieme un fine formativo, un fine educativo, che è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, di tutte le persone, quindi contemporaneamente anche dei bambini con disabilità. La disabilità non deve significare impossibilità di far movimento. esistono i cosiddetti sport adattati, che cos'è l'adattamento? È creare le soluzioni, le strategie ideali per rendere accessibile quell'attività motoria o sportiva alle persone indipendentemente dalla disabilità presente. Quindi, i percorsi devono essere personalizzati e soprattutto bisogna lavorare in maniera scientifica affinché si vada, utilizzando le capacità residue, a migliorare in maniera ottimale il livello di partenza per far acquisire al bambino un'autonomia personale e soprattutto un'integrazione sociale. Il concetto dell'inclusione sociale risulta fondamentale. Oggi ancora, in Italia e soprattutto, forse vorrei dire, nella nostra regione, molti bambini e molti adolescenti con disabilità non hanno la possibilità di fare attività motoria. Quindi, questa occasione io mi auguro che serva per stimolare soprattutto i bambini ma in particolare i genitori perché l'educazione soprattutto a bambini passa attraverso i genitori. Dunque, prosegue anche la linea di Special Olympics con il Cus Molise e la sinergia. C'è stata anche una manifestazione qualche giorno fa bocce che passione e in tal senso continuate a lavorare. Sono diversi anni che Special Olympics è un'organizzazione mondiale nata in America e oggi presente in circa 180 paesi che opera attraverso dei programmi di allenamento quindi non parliamo di sport ricreativo ma di sport quindi abbiamo degli atleti noi li chiamiamo sono atleti special i quali regolarmente si allenano e poi partecipano a delle attività di gioco competizioni le chiamiamo gioco perché? Perché devono essere dei momenti di confronto all'interno dei quali loro possono dimostrare le abilità acquisite ma sempre di più Special Olympics sta prendendo piede in Italia e soprattutto nella nostra regione a piccoli passi devo dire ma grazie alla disponibilità del Cusmo Lise dall'anno scorso è stata ampliata l'offerta formativa di questa struttura per cui abbiamo un team perché a livello territoriale Special Olympics attraverso dei team è un team Cusmo Lise si chiama Giorgio Palmieri team Cusmo Lise Giorgio Palmieri e giusto la settimana scorsa come lei diceva noi abbiamo effettuato il secondo torneo di bocce perché i ragazzi gli atleti sono tre anni ormai che si allenano nel gioco delle bocce ma contemporaneamente stanno facendo anche pallacamestro e un'attività motoria di base fondamentale anche la ginnastica posturale in questo lavoro c'è una sinergia del Cus e posso dire anche di scienze motorie perché molti studenti dell'AMPA dell'attività motoria preventiva adattata dell'Unimol danno la loro disponibilità a effettuare delle attività di tirocinio di supporto di sostegno a volte anche chiaramente di volontariato nell'ambito della promozione dello sport per le persone con disabilità Adesso vediamo le partite che sono in programma nei campionati di prima e seconda categoria Prima categoria Girone A Conca Casale Pizzone Carpinone Real Prata Cero al Volturno Atletico Sanniti Colli al Volturno Macchia Montenero Forulum Pesche Carullo Sestolese San Pietro Avellana Riposa e Rufre Girone B Baranello Gildone Colle Danchise Ripalimosani Macchia Valfortore Oratino Mirabello Volturino Morgia Pietracatella Boesi Elzi Murgansia Fossaltese Pietra Monte Corvino Cerce Maggiore Non aggiornata invece per il Girone C della prima categoria Con Colletorto Fiamma Larino Divinus San Giacomo Campomarino Frentania Endas Lupetti Guglionesi Petacciatese Quartieri Campobasso Nord San Martino Sant'Angelo Sporting Termoli Santo Stefano Campobasso Calcio Riposa Lururi Calcio A5 Scendiamo in seconda Girone A Ala Fidelis Matese Domenico Desisto San Giorgio Scapoli Donche Sagnone Monte Roduni Mastrati Sangro Calcio Pesco Pennataro Athletic Mignano Valle Agricola Cep Riposa Il Filignano Girone B San Pietro in Valle Torella del Zagno Macchia Godena Sant'Angelo Castro Pignano Amatori Calcio Boiano Pesco Lanciano Chiauci Rocca Mandolfi Gioventù Macchia Godena Sporting Torella Bagnolese Riposa Salcito Salcito Riposa Il Rotello Vi ricordo vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani alle 14.25 a tutto campo in diretta dagli studi di Campobasso Poi dalla tribuna stampa del Civitelle Dagnone per ancora dal campo Acli dove gioca il Campobasso e da tutti gli altri campi dove giocano le squadre molisane Vi ricordo anche che trasmetteremo Campobasso Montenero sul canale 112 Telemolise Sport Per quel che riguarda il pomeriggio di domani alle 18 domenica sport fatti commenti interviste e immagini alla domenica sportiva Vi segnalo anche ai nostri highlights i gol della domenica domani sera a partire dalle ore 22 Bene è tutto buon fine settimana PUL TV I love it L'idea Il progetto Soluzioni avanzate Informatica Web design Prodotti multimediali Conoscenze e tecnologie Per la certezza del risultato Publi Service Publi Service Sito internet www.publiservice.com Il giornale del Molise La tua elicola sempre aperta